La legalità trova casa nella Certosa di Padula. L'Associazione Nazionale Gio Petrosino e l'Associazione Nazionale dei Testimoni di Giustizia hanno chiesto ed ottenuto di riunire sotto lo stesso tetto, nella stessa casa, le due realtà impegnate fortemente sui temi della legalità. L'Associazione dei Testimoni era ubicata nei locali della Casa Comunale di Padula e con un atto amministrativo è stato approvato il trasferimento nei locali dell'Associazione Gio Petrosino, ubicati nella corte esterna della Certosa di San Lorenzo. I testimoni di giustizia, spiega Vincenzo Lamanna, presidente dell'Associazione Gio Petrosino, rischiano la propria incolumità, hanno denunciato il malaffare e mantenuto alti i valori della giustizia e della legalità che costituiscono oggi un riferimento importante per le nuove generazioni. Troppo spesso, aggiunge Lamanna, questi veri protagonisti della lotta alle mafie, alla corruzione e al malaffare sono dimenticati o peggio lasciati soli, senza le opportune protezioni e ridotti alla povertà dopo aver avuto il coraggio della denuncia e la forza di andare controcorrente in un paese con larghe sacche di omertà ad ogni livello. L'Associazione Internazionale Gio Petrosino ritiene prioritario stare accanto e sostenere i testimoni di giustizia che non ci ha pensato due volte a condividere la sede incertosa con l'Associazione guidata da Ignazio Cutro, più volte giunto a Padula per incontri pubblici anche con i ragazzi.